Ciao ragazzi, parliamo di Alda Merini, che è considerata tra le maggiori poetesse e scrittrici italiane, insieme proprio a Grazia De Ledda, Natalia Gisburg e Ersa Morante. Nasce a Milano nel 1931, pensate che è nata il 21 marzo, quindi il primo giorno di primavera, e morirà il primo novembre del 2009, nel giorno di Ogni Santi. Partiamo proprio da questa prima curiosità, perché la sua vita fu segnata, soprattutto da esperienze molto intense e complesse, che riguardavano soprattutto la malattia mentale, e infatti soffriva di un disturbo bipolare, che segnerà non solo la sua vita, ma anche la sua produzione letteraria. Sono nata il 21 a primavera, è proprio una delle sue poesie più famose. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. In gioventù ebbe un rapporto un po' conflittuale con i genitori. Era molto brava a scuola e amava scrivere soprattutto poesie, infatti a 15 anni già il primo esordio. Seguì poi l'esperienza traumatica della Seconda Guerra Mondiale. Come lei stessa racconta, in provincia di Vercelli, lei e la famiglia si rifugiavano nelle risaie, perché lì le bombe non esplodevano, ma già nel 1947 abbiamo il suo primo ricovero. Nel 1953 sposa Ettore Carniti, un grande lavoratore, però diversissimo da lei e per nulla interessato alla poesia. I due però insieme avranno quattro figlie, Emanuela, Flavia, Barbara e Simonetta, che curano anche questo sito, aldamerini.it, da cui ho preso parte di queste informazioni biografiche. Un po' a fatica, negli anni 60 e 70 riesce a pubblicare diverse raccolte di poesie, però la sua carriera subisce uno stop per quasi 20 anni, perché ritorna alla malattia mentale e subisce diversi ricoveri in ospedali psichiatrici. E a proposito di questo, una piccola ma importantissima parentesi. Al tempo, infatti, si chiamavano manicomi e quegli pazienti erano trattati in modi disumani. C'era l'elettroshock, spesso erano legati al letto, venivano a volte persino torturati. Fino al 1978, quando con la legge Basaglia, che prende proprio il nome da questo psichiatra importantissimo, che fu il principale promotore di questa riforma, si impose appunto la chiusura dei manicomi e regolamentato il TSO, cioè il Trattamento Sanitario Obbligatorio. Come detto, in questo periodo non pubblica per circa 20 anni, però in manicomio continua a scrivere poesie, appunti, pensieri e riflessioni, e tutto questo troverà finalmente la pubblicazione con la Terra Santa del 1984. Come vedete, in questa poesia, tratta proprio dalla raccolta Terra Santa, si parla dell'esperienza del manicomio, di come si viveva lì dentro e di cosa i pazienti subivano. Rimasta vedova nel 1983, si risposa con il poeta Michele Pierri. I due si trasferiscono a Taranto, però ancora una volta la Merini ha una ricaduta, un crollo dal punto di vista mentale, e deve fare il ritorno a Milano. Tuttavia è proprio qui, in questo periodo, e a Milano, che vive il suo periodo più fecondo e produttivo. Tra gli anni 80 e 90 pubblicherà non solo diverse raccolte poetiche, ma finalmente ottiene un riconoscimento e un'affermazione sempre maggiore, e infatti finisce varie volte ospite in diverse trasmissioni TV, per esempio al Maurizio Costanzo Show, o anche da Bonolis. Tu hai parlato del senso della vita, la vita non ha senso, anzi è la vita che ti dà un senso, sempre che noi la lasciamo parlare. E vince anche diversi premi letterari. Tra le altre curiosità, sapeva suonare il pianoforte, aveva amicizie con diversi poeti, tra cui Quasimodo, fu candidata due volte al premio Nobel, però tuttavia non riuscì mai a vincerlo, e famosissimi sono anche i suoi aforismi, che spesso circolano anche sui social. Infine usufruì della legge Bacchelli, ovvero quella legge che prevede un fondo, cioè dei soldi, a favore di quei cittadini illustri, quindi poeti, ma anche sportivi, registi, attori, che versano in uno stato di particolare necessità. E infatti la Merini ricevette anche l'ordine di sfratto, quindi le condizioni economiche non erano delle migliori. Alla fine si spensi a Milano nel 2009 a causa di un tumore, e come scrivono le figlie, sempre con le sue amate e inseparabili sigarette, dalle quali non riusciva proprio a staccarsi. Qui vi ho messo alcune delle sue opere maggiori, che sono tantissime. Vi segnalo soprattutto la presenza di Orfeo, che è una delle prime raccolte di poesie, poi Terra Santa, in cui testimonia l'esperienza del manicomio, L'altra verità, Diario di una diversa, e soprattutto La pazza della porta accanto, che è un libro in prosa ed è anche una delle sue opere più celebri. Però, ragazzi, vi voglio sottolineare che la fama di Alda Merini è cresciuta, soprattutto negli ultimi anni, e questo perché il pubblico l'ha amata, non solo come scrittrice e come poetessa, ma anche e soprattutto per la sua umanità, per le sue fragilità. E a tal proposito, non vi voglio leggere una poesia, ma queste poche righe in riferimento al rapporto con le figlie. Ho avuto quattro figlie, allevate poi da altre famiglie, non sono eppure come ho trovato il tempo per farle. Si chiamano Emanuela, Barbara, Flavia e Simonetta. E a loro raccomando sempre di non dire che sono figlie della poetessa Alda Merini, di quella pazza. Loro però rispondono che io sono la loro mamma e basta, e non si vergognano di me, mi commuovono. Quindi vedete l'umanità, la genuinità di questa persona. Inoltre, la Merini è diventata un'icona, un simbolo delle persone affette da malattie mentali, cercando di promuovere sempre una maggiore attenzione e sensibilità verso coloro che ne soffrono. Per quanto riguarda la poetica, come detto, la sua poesia è celebrata proprio per la sua intensità emotiva, per la sua originalità linguistica, per la sua genuinità, per la sua spontaneità, ma anche per la capacità di affrontare temi universali, soprattutto la malattia mentale, le sofferenze, il dolore, ma anche l'amore visto sotto ogni sfaccettatura, quindi non solo l'amore spirituale e platonico, ma anche carnale, erotico. Infine, altri temi ricorrenti sono di carattere religioso, quindi misticismo e spiritualità. E infine, che cos'è la poesia per la Merini? Come già abbiamo visto in parte, la poesia non solo è uno strumento per esprimere il suo dolore, le sue sofferenze, ricordate la sua testimonianza in manicomio, ma anche per esorcizzare questo dolore. Quindi la poesia diventa una sorta di autoanalisi, di cura, una sorta cioè di terapia psicologica, per cui il dolore, come si dice in psicologia, viene sublimato, viene trasformato da qualcosa che ci fa soffrire a un punto di forza. E questa, ragazzi, è una delle lezioni più importanti che possiamo imparare nella vita. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.